Gloriosa Santa Chiara che, a motivo del miracolo con cui il Signore ti concesse di assistere a distanza dal tuo giaciglio di inferma alla Santa Messa di Natale servita da San Francesco, se stata proclamata patrona della televisione e dei mezzi di telecomunicazione, intercedi presso il trono di Dio a ciò che il Signore intervenga con il suo Santo Spirito a purificare quanto viene trasmesso e divulgato via etere. Intercedi altresì affinché le trasmissioni rispondenti al volere di Dio non siano vanificate dai servitori del nemico infernale. Certi del tuo provvido e santo aiuto, ti confermiamo la nostra devozione, nella speranza di poterti un giorno ringraziare nella Gerusalemme celeste. Così sia Così sia